Siete ben rifocillati? Siete sazi? Benissimo! Ora è un momento importante perché ci sarà un altro sacerdote molto dinamico venuto da un po' lontano che si chiama Don Carlo Pirotta Un applauso forte perché ci darà un messaggio sentito con il cuore e sicuramente partecipato per tutta la giornata Don Carlo! Don Carlo! Qualcuno una volta ha scritto che la giovinezza è una malattia ma che non è grave perché tanto prima o poi guarisci ma non è mica vero e te ne accorgi quando guardando le nonne che portano i bambini al catechismo della prima comunione ti accorgi che hanno la tua età e dici no forse, non mi sento, il nonno e quindi la giovinezza non è una malattia dalla quale si guarisce perché è una condizione dell'anima che dura sempre si può essere sempre giovani ma lo si può anche non essere mai si può essere gente vecchia già a 15 anni gente che non ha più speranze, che non ha più voglia di dare e allora voglio lasciare un solo messaggio che di tanti anni fa quando ero giovane io l'allora papa San Giovanni Paolo II scrisse una lettera a tutti i giovani e in questa lettera scrive una cosa bellissima che ci può servire ancora oggi scrisse che l'essere umano non è come gli alberi da frutta che producono i loro frutti una stagione sola su quattro in una stagione il fico ti dà i fichi il melo ti dà le mene il pero ti dà le pene l'essere umano non è così l'essere umano deve dare frutto in ogni stagione anche nella giovinezza anche in quella strana giovinezza che è la terza età anche in quella giovinezza che è da adulto portare avanti la propria famiglia e allora l'invito è questo non mettetevi nella condizione di chi per dare frutti deve aspettare questo o quell'altra cosa no dai prete non posso fare la catechista adesso devo finire con gli esami no prete e se io domenica mattina vengo ad animarti la messa io come faccio devo studiare no prete devo aspettare che prima mi sposi no devo aspettare di avere una professione no devo aspettare non aspettate datevi i frutti che potete dare in quella stagione che state vivendo non siate non siate della gente piena di ritrosie ti posso dare un'ora, ti do un'ora, te ne posso dare dieci, ti do dieci date sempre i vostri frutti sono la vostra giovinezza bravo!